E dai, non disperarti così, non è una notizia terribile, poi hai 17 anni, hai tutta la tua famiglia dietro e sono sicura che Brian sarà contento di avere un figlio, hai 17 anni, su dai, non piangere e vuoi a controllare, hai ragione, vado Ma che succede, perché urli? Urlo perché è positivo, guarda tu stessa, è proprio positivo, mi dispiace, Grace, ma devi dirlo alla tua famiglia No, non so, in che senso non so, devi dirglielo, nel senso che non so se dirlo prima a Brian o prima a mia famiglia E che... Ehi, ciao mamma, è stato tutti bene? Ho sentito qualcuno urlare Ehm, sì, è che... Ah, insomma, dai, chiama tutta la famiglia e si dica a tavola, dico notizia Il mio estinto di madre mi dice che la notizia è shock, ma va bene, vado a chiamare tutti Dopo a tavola Allora tesoro, dici, qual è questa notizia? Ok, è una notizia shock e vi avviso già Ok, la notizia è che sono incinta Oh, mamma Beh, dai, è svenuta solo mamma E papà E Megan E la nonna Niente, in pratica sono solo svenuti tutti Ti credi nella notizia bomba, dovevi pensarci prima di fare... E la notizia bomba, dovevi sapere... E la notizia bomba, dovevi sapere... E la notizia bomba, dovevi sapere...